Franco Terlizzi contro Simone Barbato, ma chi cazzo sei per dirmi di non agitarmi? All'isola dei famosi 2018, sono giorni tumultuosi per Simone Barbato. Nel giro di poche ore, il mimo ha discusso sia con Amauris Perez, che con Franco Terlizzi. All'isola dei famosi 2018 continuano a verificarsi dissapori tra i naufraghi. Gli ultimi giorni sono stati particolarmente burrascosi per Simone Barbato, che si è ritrovato a scontrarsi sia con Franco Terlizzi, che con Amauris Perez. Il mimo non sembra fare nulla per provocare l'eliti, eppure alcuni suoi atteggiamenti suscitano reazioni spropositate. Lo scontro tra Simone Barbato e Franco Terlizzi Mentre si trovavano nel bosco, Simone Barbato e Franco Terlizzi discutevano sulla legna da prendere. Il mimo non ha apprezzato il tono di Terlizzi e gli ha chiesto, ma perché ti agiti? La cosa ha infastidito Franco, che ha commentato Stai sempre a dire ti agiti, ti agiti ma chi cazzo sei? Come ti permetti? Io mi sto agitando? Sto parlando. Cerca di stare tranquillo ti agiti, cerca di toglierti questo vizio. Fammi questa gentilezza. Perché io sono educato nei tuoi confronti e cerca di esserlo anche tu. Simone ha replicato, ma uno maleducato ti dice ti agiti? È una brutta parola? Non lo sapevo. Dire non agitarti non è una mancanza di rispetto. Terlizzi ha preferito troncare la discussione, uno non può nemmeno più parlare che per te si agita. Almeno con me questo vizio toglitelo, poi con gli altri fai quello che vuoi. Lo trovo di cattivo gusto, punto e basta. Chiuso. Simone barbatolitica con Amauris Perez per gli avanzi. Con Amauris Perez, invece, Simone ha litigato per via degli avanzi. A un certo punto, i naufraghi hanno sentito il pallanuottista alzare la voce contro il mimo, è colpa tua e te la vieni a prendere con me. Barbato, allora, si è difeso, ma perché alzi la voce? Perché sei così prepotente? Non so perché stai urlando. Ho visto questi avanzi qui e li ho messi sugli altri avanzi. Stai urlando per niente. Perez, sempre più contrariato, ha replicato, ma è normale, che devo alzare la voce. Tu sei arrivato con prepotenza, io stavo qua tranquillo. Vattene, questo è il mio posto. Te ne puoi andare a cercare un altro posto. Se vuoi fare così vai, guarda quanto è lunga la foresta. Mentre Barbato ribadiva di non comprendere perché Perez alzasse la voce, gli altri naufraghi li hanno invitati ad abbassare i toni.